Iguain, Iguain, che pulpetta, che babà, che confietta, che campione, che mostro, Gonzalo, Pipita, Iguain, 36, e Castagnel, sono le nacchere ragazzi, si balla, si balla il flamenco a fuori grotta, con 36 gol, e il pallone a casa, Pipita, Iguain, Iguain, mostro, 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 è il dio del calcio, è il dio del calcio, è il dio del calcio, è l'attaccante più forte al mondo, ce l'abbiamo noi, piedi da 10, magna da 9, ed è quella azzurra del Napoli, Gonzalo Iguain, un'ira di Dio!